salve oh non sai dove ti trovi sei al polo nord sei stato incosciente per un bel po' gli umani mi incuriosite davvero molto ho chiesto molte volte a papà natale di andare con lui ma non ha voluto portarmi sulla slitta e quindi sono rimasto qui io sono un elfo dottore cioè costruisco anche giocattoli ma prendo cura dei miei fratelli Elfi suppongo che mi prenderò cura anche di te ma prima di tutto hai sete freddo immaginavo oh una soluzione per questo delle caldissime calze vuoi qualcosa di caldo o qualcosa di freddo anche tu preferisci il te caldo certo lo abbiamo un po' di magia scotta scotta oh no non ho una luce devono avermela rubata hai fame sì ok oh un biscotto di grassa ho anche questo biscotto questo è di pasta frolla questi vengono dal tuo mondo senti che buon profumo questo sicuramente nel tuo mondo non c'è questo è un giocattolo che ho creato io è un ognomo potresti seguire il suo naso controllerò adesso le tue orecchie vuoi seguire questa penna per me di che colore è questo nastro? chi mi dici di questo? cosa vedi? su questo foglio cosa vedi? un albero una rena è un fiocco di neve sì è un pupazzo di neve ma fa Natale è un albero di Natale dei quanti una casetta di marzapane posso lasciarti tornare nel tuo mondo ti rimanderò indietro sì 3 2 1